Tu hai fatto un grande passaggio dal Chelsea, che è comunque una delle top squadre in Europa, qui all'Amburgo, che è la squadra che non è mai retrocessa in Svaiteliga, quindi è una grandissima tradizione. Sì, guarda, devo ringraziare soprattutto Frank Arnesen che mi ha voluto qua, come mi ha voluto al Chelsea, quindi diciamo che è grazie a lui che io sono arrivato all'Amburgo. Guarda, me l'ha offerto e ho risposto subito di sì per la storia che ha questo club, mi sto trovando bene. Purtroppo adesso siamo in un periodo così, così, però stiamo uscendo da questa situazione, quindi aspettiamo il ritorno e sicuramente faremo un gran ritorno. Com'è il tuo ambientamento qui in Germania? Ma guarda, è stato un po' difficile all'inizio, soprattutto per la lingua, che è veramente difficile, però i compagni mi aiutano tanto, l'allenatore mi sta aiutando e quindi sta procedendo tutto come deve procedere. Cosa spinge un ragazzo della tua età a lasciare l'Italia per andare a giocare all'estero, che è comunque, credo, un'ottima esperienza a livello professionale, ma anche una grande sfida? Ma guarda, è un'esperienza di vita più che altro. Io sono partito che ero molto giovane, avevo 15 anni, quindi più che per il calcio è un'esperienza di vita, comunque impari un'altra lingua, sei fuori di casa, non hai i tuoi genitori, non hai i tuoi affetti vicini, quindi è stata un'esperienza di vita, poi ovvio che quando viene il Chelsea a cercarti, che è una grande squadra... Non lo smetti di essere mammone sul video. Penso proprio di sì.